Ciao ragazzi, benvenuti all'Ammersa e sono qui alla The Vox, quindi approfitto di questo palcoscenico per lanciare il terzo video della Google Developer Live. In questo episodio Alberto Mancini continua quanto ci ha esplorato nella scorsa puntata aggiungendo funzioni di realtà virtuale. Quindi ricapitoliamo, abbiamo un'applicazione che tramite Chrome e le WebRTC API prende il flusso della nostra videocamera e fa delle elaborazioni successive sfruttando l'API WebGL. In questa nuova puntata verrà aggiunto l'ulteriore strato che è il Near World Kit per poter fare del riconoscimento di markers e quindi aggiungere poi degli oggetti che andranno quindi a comporre la nostra applicazione in realtà virtuale. Io vi lascio subito ad Alberto del GDG di Firenze e noi ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti! Ciao, io sono Alberto ed oltre a occuparmi in varia misura di sviluppo di applicazioni web, sono anche uno degli organizzatori del Google Developers Group di Firenze. Se siete interessati ad avere qualche informazione sul gruppo di Firenze potete trovarci sulla nostra web page di cui ho riportato uno short url oppure sulla nostra pagina Google Plus oppure semplicemente potete cercarci su Google e troverete alcune informazioni circa gli eventi passati e come partecipare al gruppo. Proprio grazie al supporto della comunità e con la collaborazione degli analoghi GDG di Roma e di Bologna, quest'ottobre siamo riusciti ad organizzare un evento lungo due giorni, una GDG DevFest. Proprio da una di queste presentazioni è estratto il talk che mi accingo a presentarvi. Ciao e benvenuti alla seconda puntata dello sviluppo di applicazioni non convenzionali utilizzando GWT Elemental, WebRTC e WebGL. Se nella prima parte abbiamo visto come sia relativamente facile utilizzare WebRTC o WebGL, questi nuovi standard introdotti in HTML5 per catturare uno stream proveniente da una webcam e per fare grafica tridimensionale all'interno di un browser, in questa seconda parte ci occuperemo di capire come utilizzando lo Web Development Toolkit, cioè un compilatore da Java a JavaScript, ci possa assistere nel prendere una libreria Java, bella che pronta, e trasformarla in un modulo utilizzabile all'interno di un'applicazione web, cioè di un'applicazione che verrà eseguita dal nostro browser. L'NY Art Toolkit è una libreria che ha una storia abbastanza lunga, nasce come trasformazione di un altro toolkit, Art Toolkit, Augmented Reality Toolkit, che è una libreria che utilizzando algoritmi di computer vision riesce a fare la detection in una fotografia e in uno stream video di determinati marker di alcune immagini che gli possiamo insegnare a riconoscere. Una volta determinate queste immagini all'interno di uno stream video o di un'immagine, Art Toolkit è anche in grado di dirci quale matrice di trasformazione dobbiamo applicare a questi marker per ottenerne la posizione nella scena che è stata catturata dallo stream video. Sostanzialmente è una libreria che serve per fare cose di questo genere, in cui la libreria riconosce la posizione di un marker, ce ne passa la matrice di trasformazione per collocare un oggetto esattamente sopra il marker e noi possiamo disegnare un oggetto sintetico sopra all'immagine, aumentando in qualche modo la fotografia piuttosto che l'immagine, piuttosto che il video. Il programma che vogliamo realizzare, insomma, è una cosa che funziona più o meno a questa maniera. Dalla webcam, utilizzando WebRTC, vogliamo popolare un tag video. Il tag video poi, come sappiamo, lo possiamo copiare su un canvas. Da un canvas sappiamo estrarre l'image data, cioè l'immagine stessa. Utilizzando un po' di Elemental possiamo trasformarla in un byte array. Il byte array potrà essere passato alla versione compilata dallo WebToolkit dell'NYR Toolkit. A questo punto l'NYR Toolkit ci restituirà la matrice di posizionamento degli oggetti sopra il marker. Utilizzando un po' di WebGL e le informazioni sul modello, sul poligono che vogliamo collocare sulla scena, sapremo ridisegnare in un canvas che andrà a costruire il nostro video aumentato. Nella prima puntata di queste presentazioni abbiamo già visto tutta questa sezione. Abbiamo imparato a disegnare, a catturare lo stream via WebRTC e a copiare il video su un canvas 2D e 3D. E dallo stesso modo abbiamo un'idea più o meno chiara di come utilizzare WebGL per disegnare un modello. Una breve nota. Dovremmo dare a WebGL un vertex shader tridimensionale questa volta, cioè che faccia uso delle matrici di trasformazione, quella di trasformazione prospettica e quella di posizionamento dell'oggetto nello spazio della camera e poi dovremmo dare un fragment shader che altro non farà che occuparsi, eventualmente utilizzando alcune informazioni calcolate dal vertex shader, di dare il colore ad ogni singolo pixel. Le matrici che dobbiamo passare al vertex shader e che poi verranno utilizzate anche dal fragment shader sono sostanzialmente la matrice di proiezione prospettica, la model view matrix e la matrice di trasformazione delle normali che comunque si ottiene dalla model view matrix. Queste informazioni ci dovranno in qualche modo arrivare dallo web toolkit come risultato delle analisi fatte sullo stream video. Dedichiamoci adesso a capire come compilare l'art toolkit con GWT. L'operazione è abbastanza semplice, si scarica l'art toolkit direttamente dal suo sito di riferimento su Gnatla, se ne costruisce un modulo con GWT, tutti quelli che hanno mai scritto un'applicazione in GWT sanno cos'è il file .gwt.xml, dovremo giusto dire dove sta il sorgente all'interno di un tag module. Poi nella nostra applicazione dovremo importare questo modulo. Lo facciamo, è male di perdere qualche minuto a cercare di costruire un progetto in Eclipse che contenga tutti questi sorgenti, proviamo la prima compilazione e purtroppo abbiamo subito una brutta sorpresa, infatti NYToolkit che non era pensato per essere compilato con GWT utilizza all'interno dei suoi sorgenti più o meno sterminate alcune parti della JRE che non sono disponibili in GWT, ad esempio InputStream. Fortunatamente chi ha scritto WebToolkit ha pensato anche a questa evenienza, ci sono alcune parti che non sono state implementate della JRE, però è possibile darne una qualche forma di implementazione, caso per caso, quando se ne presenti l'occasione. Possiamo quindi utilizzare il supersource tag che ci permette appunto di definire dei pezzi della JRE che nel nostro caso sono necessari. Sono necessari un attimo. Ci sono diverse classi che vengono utilizzati dall'NYR Toolkit all'interno dei suoi sorgenti, però che non servono davvero per l'uso che ne vogliamo fare noi. Ad esempio ci sono diverse parti dell'NYR Toolkit che fanno riferimento all'input stream reader, ma noi non useremo mai un input stream reader. Quindi la nostra implementazione sarà semplicemente un'implementazione nothing, un'implementazione farlocca che serve soltanto per permettere al compilatore di andare avanti e che però non fa nulla. Giusto ci avverte, caso mai utilizzassimo una parte del codice che fa riferimento all'input stream reader, come quella che c'è alla mia sinistra. D'altro canto ci sono alcune parti che invece devono avere implementazioni un capellino più concrete, in quanto ad esempio il javalang javalang reflect array viene davvero utilizzato, però viene utilizzato soltanto in un paio di casi specifici ed è abbastanza facile farne, utilizzando istanze off o class equal, darne delle implementazioni che ritornino gli array di oggetti che ci servono a noi all'interno del codice. Tutte queste implementazioni sono reperibili sul blog che vi ho fatto vedere prima. Una volta implementate le parti della JRE che non sono disponibili in GWT possiamo precedere con la compilazione ed in effetti la compilazione va avanti, però ancora non sappiamo come utilizzare l'NYR toolkit. Per fare questo forse potremo leggere un po' la documentazione, il problema è che la documentazione è prevalentemente in giapponese e quindi l'unica cosa che abbiamo potuto fare è stata quella di leggere attentamente un po' degli esempi e dalla fin fine abbiamo capito che quello che si deve fare per costruire un'applicazione che utilizzi l'ART toolkit è quella di costruire un marker system config, c'è il suo costruttore che prende come argomenti le dimensioni delle immagini su cui andremo a lavorare, 640x480 è esattamente la risoluzione della mia webcam. Da questo possiamo costruire un marker system, il marker system poi avrà bisogno di essere istruito su quali sono i marker che dovrà andare a ricercare nelle immagini che gli passeremo e per questo dobbiamo aggiungere un marker con il metodo add ar marker del marker system. Per costruire questo, per poter chiamare questo metodo avremo bisogno di wrappare in qualche modo un raster proveniente dalle nostre immagini con l'oggetto NH9RGB raster. Una slide dopo ci farà capire un po' meglio come fare. Una volta costruito il marker system e creati i marker all'interno del marker system dobbiamo preoccuparci di passargli i dati. Passargli i dati è una cosa che dovremo fare attraverso un oggetto di tipo NYR sensor. Anche l'oggetto NYR sensor come l'ADRM marker può essere inizializzato utilizzando un buffer raster che andremo a popolare con le informazioni provenienti dalla webcam. Una volta ottenuto il raster possiamo aggiornare il sensore con l'informazione del raster che a questo punto andrà ad elaborare l'immagine proveniente dalla webcam. A questo punto abbiamo il sensore, chiediamo all'oggetto marker system di aggiornarsi con le informazioni provenienti dal sensore e a questo punto siamo pronti per poter chiedere al marker system se un dato marker, quello con l'ID che ci ha ritornato la funzione add marker è o non è presente nell'immagine che gli abbiamo appena passato. Prima di capire come utilizzare quella informazione dedichiamoci un secondo a capire come passare le informazioni al marker system. Qui l'intera libreria NYR toolkit è fatta in modo tale da utilizzare dei byte array. I byte array purtroppo non sono tra le informazioni che ci vengono ritornate dall'image data, le immagini in qualche modo che possiamo manipolare in Elemental e GWT. Quindi dobbiamo in qualche modo costruirci una trasformazione da un intotto clamped array che è quello che ci viene ritornato dal metodo get data di image data, ed un byte array. La cosa da fare è quella di utilizzare un metodo nativo per fare, come avevamo già fatto nella prima puntata in alcune occasioni, un cast da un oggetto che non sappiamo manipolare in Java e un byte array. Quando poi il codice verrà generato in JavaScript dal compilatore, questo significherà soltanto che abbiamo associato un oggetto di tipo array con un altro oggetto di tipo array e l'interprete JavaScript sarà abbastanza intelligente da capire che questa operazione è lecita. Per la verità, come potete vedere dalla dichiarazione, gli oggetti di tipo raster hanno i byte ordinati in maniera diversa rispetto a come li troviamo noi nell'image data e quindi sarà anche necessario fare una copia che riordini le componenti RGB e Alpha nei nostri buffer. Quest'operazione di copia fortunatamente viene fatta dal JavaScript in maniera molto rapida e quindi non appesantisce tutte le nostre operazioni che devono essere fatte ricordo in tempo reale. Una volta popolati i sensori, siamo quindi al punto di aver fatto tutta questa sezione. Abbiamo catturato l'informazione dall'image data, per la verità l'abbiamo catturata anche per quanto riguarda i marker che dobbiamo inserire nel marker system all'inizio e l'abbiamo copiata in un byte array. A questo punto facciamo partire l'NYR Toolkit che ci dovrà ritornare l'MV Matrix, la matrice che dovremo poi passare a WebGL per fare il posizionamento degli oggetti nella nostra scena sintetica. Quindi siamo a questo punto del nostro grafico. una volta determinato se un marker è o no presente in un determinato fotogramma, il marker system ci dà la possibilità di utilizzare il metodo getMarkerMatrix che ci ritorna una matrice 4x4, esattamente come ci serviva, dato il marker ID. Questo metodo è da chiamarsi soltanto quando il metodo marker exists ha ritornato true, però ci ritorna una matrice che non è direttamente utilizzabile nel nostro applicativo che fa uso di WebGL. Fortunatamente cercando un po' all'interno dei sorgenti di NYR Toolkit si trova un esempio che fa uso di OpenGL che è parente stretto di WebGL e quindi possiamo utilizzare direttamente la trasformazione della matrice fatta in questo modo. Sostanzialmente si tratta di un cambio di sistema di riferimento. Questa matrice costruita dal metodo to camera view RH è quella che possiamo direttamente passare al nostro shader come model view matrix. Allo stesso modo dovremo essere sicuri che la matrice di proiezione prospettica che noi utilizzeremo nel rendering degli oggetti tridimensionale sia coerente con quella che utilizza NYR Toolkit per fare la detection degli oggetti, altrimenti avremo una proiezione diversa tra quello che immagina sia la proiezione utilizzata NYR Toolkit e quella che utilizzeremo noi per costruire gli oggetti sintetici e le cose risulteranno non realistiche perché gli oggetti non verranno posizionati dove ci si aspetta sul video. Per far questo è sufficiente chiedere direttamente al NYR Toolkit di costruire la matrice che utilizza per fare la detection dei marker e poi noi la potremo utilizzare direttamente nei nostri shader utilizzando gli uniformi che abbiamo visto prima. Quindi una volta fatto il setup delle due matrici siamo in grado di andare a scrivere in un canvas nel quale dovremo scrivere sia il video che gli oggetti sintetici per ottenere il video augmented che verrà visualizzato dalla nostra applicazione. Sostanzialmente, adesso torniamo all'applicazione, saremo in grado di fare una cosa di questo genere, prendere gli oggetti e mapparli direttamente sui marker che vogliamo mostrare. Come avevamo visto l'altra volta abbiamo la possibilità di scegliere oggetti e quindi potremo associare al nostro marker non soltanto i cubi che sono sempre più semplici ma anche altri oggetti, il nostro Android oppure il mostriciattolo che avevamo mostrato l'altra volta o anche più marker contemporaneamente. Per la verità utilizzando i QR code che abbiamo messo accanto all'applicazione sarà possibile oltre che utilizzare dei marker stampati anche utilizzare un'immagine sul telefono per fare un po' di realtà aumentata. Questo è quanto, ciao Alberto!